Ciao a tutti e bentornati sul canale. Perché iniziamo con la mia faccia? Perché ho fallito. Ho fallito un'altra volta. Avevo detto che non avrei fatto tagli. Adesso mi ricredo poi. Proverò a non fare tagli. In questo caso assolutamente ho dovuto buttare via praticamente tutto. Perché era un susseguirsi di riprova riprova riprova. Ho provato ad ammazzare i due boss del livello all'infinito. Praticamente sono stato one shotato, bishottato. Ho farmato un pochettino per aumentare di livello. Ho messo l'anello della protezione come mi avete detto. Fatto sta che sono arrivato ad avere solo una umanità. Una sola umanità. Vediamo insieme che cosa è successo. Ah quasi dimenticavo. Alla fine del video vedremo un saluto di GamerNight135. Ci vediamo alla fine. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Sono morto milioni di volte. Sono tornato qui nel falò. Ho una sola umanità. E ho farmato un pochettino per aumentare un po' le mie caratteristiche. Vedete sono a livello 106 e ho aumentato la mia vitalità. Ho messo l'anello della protezione. Ho messo l'anello della protezione per aumentarmi la vita e la resistenza. Se questa volta non va ragazzi. Non so proprio che cosa fare. Ok. Siamo tornati umani. È successo di tutto. Sono morto decine di volte dai boss. Mi hanno invaso e mi hanno distrutto. Sarà... Fammi passare per favore. Sarà un due ore che sono qui a cercare di uscire da questo postaccio. Probabilmente taglierò. So già che taglierò perché ne ho abbastanza di video su questo posto. Daaaah! Finalmente vi è riuscita. Ragazzi è l'ultima animazione. Se fallisco questa... Mi tocca andare a farmare. Vi rendete conto? Mi sono bruciato 12... Mi sembra 12 umanità. È l'ultima umanità. Perché dico anime? U-manità! U-manità! Ho fatto questo sentiero decine di volte. Sono tristissimo. Sono tristissimo. E se anche stavolta va male, devo andare a farmare. Quindi devo rifarmi tutto il percorso di Anor Londo all'indietro. Devo farmi tutte le profondità. Hai visto che agilità, eh? Ormai... Ci vediamo... Sono due ore che ci vediamo, io e te. Alla giù c'è Soler, che non mi ha dato una mano per un... No, non voglio dire parolacce, però... È una pippa. Mamma mia, questi due poi... Ecco, bravi. Attaccatemi in due. Bravi, dai. Ecco, bravo. Torna al tuo posto, tu. Vediamocela io e te, dai. Però facciamo una cosa veloce, perché... Ragazzi... Non ne posso più. Mi ha distrutto questo Anor Londo. Cioè, certo, poi... Ognuno ha i suoi... Mamma mia. Pensavo che mi usassi un cartello. Eccolo! Quanto mi toglie! Ok. Che stavo dicendo? Sto dicendo... Ah, sì, ognuno ha le sue nemesi. Ma porca miseria. Io... Io... Anor Londo proprio, non lo digerisco. Mi dispiace. Forza, fatti ammazz... Mamma mia, fatti ammazzare! Che ti costa? Ah, ok. Andiamo ad ammazzare il tuo fratello gemello. E poi... Questa sarà l'ultima battaglia. In un modo o nell'altro sarà l'ultima, perché... Perché ragazzi, ho finito l'umanità! Certo, potrei affrontarli da solo, senza Solair. Ho anche letto in giro, che affrontando i boss in compagnia di Solair, o comunque in compagnia... No, DIVA STARDAPS! Ecco. Affrontando in coop i boss, questi prendono più vita e sono più forti. Però, non so dirvi se sia vero. Certo che... Affrontare... Grande. Eh, questo è andato. Certo che affrontare Onstein e Smough da solo... Ho provato ad usare anche l'arco, con dei pessimi risultati. Sono veramente scarso. Dai, Solair. Questa volta non mi morire subito, però, eh. Sono stato one-shot-tato, bisciottato. Sono tristissimo, ragazzi. Sono tristissimo. Poi adesso magari mi invadono anche, quindi... Dai, Solair, sprigati. Non abbiamo tutto il giorno. Non abbiamo... Che fa... Evocchiamo anche lui, sì. No, non lasciarmi. Aiutami. Che qualcuno mi aiuti in questo gioco maledetto. Ah. Solair, aspettiamo. Vediamo se quell'altro torna. Non torna più. È una valle di lacrime, ragazzi. È veramente una valle di lacrime. Torna. No, perché? Perché? Eh, sì. Ma è certo, meglio così mi sono curato. Non torna più, ragazzi. Solair. Solair. Siamo io e te. Ok, allora. Ti ho ripeto un'altra volta la tattica. Tu ti occupi di... Oh, non stai. Io mi occupo di smoke. Però non farti ammazzare subito, come al solito. Ok. Allora, ecco. Mi sono occupaggiato anche la fiamma. Evocazione fallita, grazie. Me ne ero accorto. Allora. Ho usato la fiamma nera. Ok. Perché ho visto che lo stordisce. Vedete? Lo stordisce un po'. Con due colpi. Ok. Adesso... Eh, ti sei seduto. Dai, che ti sto facendo fuori? Sei finito. Questa è la volta buona. Magari, ragazzi, forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo. Dai. Opla. Ah, no. È Ornstein che sta... La vita che... Soler? Soler ha ammazzolato... Ha ammazzolato Ornstein. Oh, ragazzi. No, io volevo ammazzare Ornstein per ultimo. Cazzate che metà... Metà vita. Come il cavolo ha fatto? Io sarei tentato di suicidarmi per poterci... No, ragazzi. No. Cioè, se... No. Io... Io lo ammazzo. Basta. Ragazzi, io... Lo so, lo so. Avevo detto che avrei ammazzato per ultimo Ornstein, però... Non ho più umanità. Non ce la faccio più, ragazzi. Senti te. Basta, lo massacro adesso. No. No, ciccio... Baluba. Ok. No, ragazzi. Come hai fatto, Soler, ammazzare? Potevi ammazzare Smog e rimanere con tutta questa vita. Dietro, 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 dietro. Ok, ci curiamo. Intanto Cavalier Soler sta quasi per andarci. Ragazzi, se non ce la faccio neanche così... Cioè, se non riesco neanche a vincere in queste condizioni... Basta. Chiudo il canale. No, non è vero. Non chiudo il canale. Però... Però forse è meglio se ce la faccio, perché veramente sono tanti gli episodi che ho registrato in questo... Non ho più magie, non ho più... Ah, sì. No, non ho più magie. Non ho più magie, non ho più piromant... Ah, sì. Sfera di fuoco. Senti, facciamo così, allora. Adesso che mi sento un po' più ganzo... Io mi nascondo qua, dietro la colonna. E poi ti massacro di palle di fuoco. Eh? Ce la vediamo così? Facciamo un po'... Io vado di qua e tu vai di là. Poi tu ti campi, io vado dall'altra. Poi dopo ti fermi. Mi cerchi di colpirmi. Oh, oh, oh. Non ce la fai. E io ti brucio... No! No! Madonna. Allora, ricominciamo. Ehm... Bravo, bravo. Quanto ti manca? Ti manca uno sputo, ragazzo? Ti manca uno sputo? Io l'ho... L'ho... Mamma mia, se mi... Se mi uccidi adesso... Mi suicido. Smog? Facciamo un patto. Tu adesso te la prendi della pancia, questa? E muori. Perché non sei morto? Madonna! No, 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 no. Fermo, 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 fermo. Fermo, allora. Respiro. Ok. E... Papum. Yeah! Oh, ragazzi, è andata così. È andata così. Mi dispiace veramente tanto. Avrei voluto far fuori un off-time per secondo. Mi vanto pure. Sono veramente... Veramente... No, è una puntata veramente brutta. Scusate, ma sono finito a Norlondo. Oh, Cristo. L'ho finito a Norlondo. L'ho finito a Norlondo. Non ci credo, ragazzi. Con disonore. Con tremendo disonore. Nei vostri confronti. Ma... Era l'ultima. Era l'ultima umanità, ragazzi. E... E... Soler mi ha seccato monstai. Cioè, è una roba che non succede... Penso che non sia... Sarà successo a nessuno di voi. Poi, nel New Games Plus... Va. Senti... Facciamo... Facciamo che... Adesso mi rie... Facciamo che chiudiamo qua la puntata, eh. E la prossima puntata andiamo a vedere la principessa. È finita, ragazzi. Oh, non ci credo. Non ci credo. È finita. E... Io vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata. E finalmente prenderemo sto benedetto teletrasporto. E dopo questa fine ingloriosa... Vediamo di salvare questo video... Con il saluto di GamerNight135. Ciao, ragazzi. Lascio la linea a voi. Bella a tutti, ragazzi. Molto probabilmente non ci conoscete. Oggi siamo qui, grazie... Io gioco troppo poco. E... Quindi, lo ringraziamo per aver messo il nostro video. Qua sopra, noi siamo di youtuber... Che ci divertiamo più che altro. Non è che... Predindiamo più di tanto. Se vi va di visitare il nostro canale... Ci faremo essere felici. Siamo io e questo qua davanti... Questo cretinetri qua davanti. A me. Grazie per avermi dato il cretino. Sono molto, 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 molto felice. Noi sì, siamo molto... Siamo amici, quindi non è un problema. Ci prendiamo sempre un poco in giro. Quindi, se vi va, raga, quindi visitate il nostro canale YouTube. Se volete fare un giro. Se non potete... Se vi piace tantissimo, consigliate i vostri amici. E quindi, ringraziamo ancora... Io non gioco troppo poco. E... Anche noi giochiamo troppo poco. Grazie per aver visto il video. Scusatemi ancora se non... Se non ho ucciso on sempre il secondo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!